Dottoressa Bergamin, quali sono secondo lei gli strumenti di gestione patrimoniale più adatti nell'attuale contesto economico? Allora, nella situazione attuale di crisi economica, parlando di gestione patrimoniale intesa come pianificazione patrimoniale, riteniamo che lo strumento più adatto e completo sia quello del trust. L'istituzione di trust internazionali o interni che in qualche modo possano aiutare la protezione del patrimonio e nello stesso tempo la pianificazione patrimoniale intesa come passaggio generazionale in azienda. Grazie, dottoressa.